E allora, pronto qua? Dimmi, dimmi! Ciao Massimo! E come sei il discorso dell'isola? Ascolta, adesso che sto serato giorni Pasqua e Pasquetta, che non si vediamo Cos'è un po' i grammatini di fare? Ah, mi darò fin a sprecciare invece, manchiamo e beviamo E per andare all'isola del Pasqua, come faccio? Che so, mi do dire all'isola del Pasqua, continuerai in agenzia? Dobbiamo andare? Basta seguire quello, un belò!